Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di Geografia. Siamo a pagina 82 del nostro libro di Geo. Allora, vediamo un po'. Cominciamo a parlare dei vari settori, i soliti settori primario, secondario e terziario, però visti in ottica globale. Brevi riassunto delle puntate precedenti, nel frattempo. Abbiamo parlato a lungo di globalizzazione. Globalizzazione è quel fenomeno che viene fuori dal partire dagli anni 90 del secolo scorso. È un fenomeno che riguarda la mondializzazione dei commerci. Questo dovuto soprattutto alla facilità e all'economicità dei trasporti. Cioè, se il trasporto delle merci è più veloce e meno costoso rispetto a prima, posso anche pensare di produrre le mie scarpe in Cina e venderle al mercato di Varallo senza grossi problemi, anzi ottenendo un vantaggio economico da questo, perché in Cina ovviamente i salari sono più bassi che in Italia. Poi abbiamo parlato, ovviamente, vi ricordate la popolazione, del problema della sovrappopolazione. Abbiamo parlato delle migrazioni nel mondo, che sono dovute ovviamente a questi squilibri economici mondiali, cioè la differenza tra paesi ricchi e paesi poveri. E poi avevamo parlato del concetto di razza, che è assolutamente insensato, ricordatevi, visto che le razze umane non esistono. Ora, a pagina 82 comincia la nostra trattazione sul settore primario nel mondo. Allora, la meccanizzazione ha ridotto il numero degli addetti all'agricoltura. Si calcola che l'11% delle terre emerse sia coltivabile. In gran parte dell'Europa, negli Stati Uniti, in India e in Asia orientale, più del 20% della superficie è coltivata. L'11%, ragazzi, fateci caso, è proprio poco, visto che il nostro pianeta dallo spazio è azzurro, sapete bene che i due terzi della superficie del pianeta è coperta da acqua. Soltanto un terzo da terra. Di questo 30% rimasto, soltanto l'11% è favorevole all'agricoltura. Il resto sono gli acciai, i deserti, i broghiere, tundre, taighe, eccetera, eccetera, eccetera. Nel mondo stanno diminuendo vistosamente gli addetti all'agricoltura, malgrado la produzione agricola globale aumenti al ritmo di 2,4% all'anno, come conseguenza del progressivo processo di meccanizzazione delle coltivazioni. Questo è ovvio, visto che si diffondono sempre di più trattori e fertilizzanti, l'intensità di manodopera, cioè il numero di persone che deve fare quel determinato di lavoro, diminuisce. Perché? Perché ovviamente un singolo contadino su un trattore rende molto, molto, molto di più dei contadini con la zappa o il bue e l'aratro. Quali tipi di coltivazione? Intanto il libro ci presenta un cartogramma sui tipi di agricoltura del mondo. Quali tipi di agricoltura esistono al mondo? C'è l'agricoltura di sussistenza, quella che è destinata al consumo locale, e caratteristica delle regioni più povere. Cioè il contadino che ha il suo campicello, che ha un piccolo allevamento, che ne so, di pecore o una mucca, e che grazie a questa attività riesce a sfamare se stesso e la propria famiglia. È l'agricoltura che avevamo in Europa nel Medioevo, per capirci. Poi c'è l'agricoltura di piantagione, che è un'agricoltura intensiva. Intensiva vuol dire che fa molta produzione con poca terra, che sottrae i terreni migliori proprio ai piccoli contadini e ai produttori locali. Questa produzione è organizzata per monoculture. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che in molte parti del mondo i contadini locali sono stati cacciati dalle terre più fertili che occupavano per essere mandati su terre meno fertili e queste terre più fertili sono state occupate e sfruttate dalle grandi multinazionali europee e americane che producono le tipiche monoculture. Quali sono? Beh, le solite. Caffè, tabacco, cacao, eccetera, eccetera, eccetera. Ananas, cotone, eccolo, sono qui. Banane, ananas e cotone. Allora, vi avevo fatto l'esempio, mi ricordo prima delle vacanze di carnevale, della coltivazione della gomma naturale. La gomma naturale è una materia prima insostituibile, quella che serve per produrre gli pneumatici, le gomme delle biciclette, in campo sanitario, per le flebo, eccetera, eccetera. Non ci sono modi artificiali di sintesi per sostituire questo prodotto. L'albero della gomma è una monocultura, perché esiste un solo tipo di albero della gomma, che era tutto concentrato praticamente in Brasile. Poi, cosa è successo? Che a inizio del Novecento, in Brasile, è arrivato un fungo parassita dell'albero della gomma, e con le piantagioni, centinaia e centinaia di chilometri di piantagioni di albero della gomma, sono semplicemente scomparse. Oggi il Brasile non esporta più nemmeno una tonnellata di gomma naturale. Dove si sono spostate? Sono spostate tipicamente nel sud-est asiatico, in Thailandia, in quelle zone lì. Anche qui, però, i coltivatori vivono nella paura che lo stesso problema che aveva interessato il Brasile interessi anche a loro, colpisca anche loro. E quindi, le monoculture sono colture che innanzitutto sottraggono i terreni migliori, i piccoli contadini, i produttori locali. E in più, sono esposte a molti, molti rischi. Le piantagioni di solito sono proprietà delle grandi multinazionali e si avvalgono di un'elevata tecnologia e danno rendimenti alti, anche per lo sfruttamento a basso costo della manopera locale. Mi viene in mente un documentario che avevo visto qualche tempo fa sulla coltivazione intensiva delle banane, le famose banane cichita che vengono coltivate in Sud America. La proprietà di questi grandi latifondi è occidentale, è americana, è statunitense. Ci lavorano i contadini poveri e poverissimi brasiliani e c'è un'elevata meccanizzazione. È vero, perché mi ricordo nel documentario si mostravano chiaramente gli aeroplanini che passavano su queste coltivazioni per dispensare fertilizzanti, diserbanti, antiparassitari e tutto il resto. Ma, quindi, alta meccanizzazione, ma sotto c'erano i contadini poveri che lavoravano e non erano ovviamente richiamati in un riparo da qualche parte per evitare questa pioggia di prodotti chimici e lì sotto a respirare questa nuvola di antiparassitari, fertilizzanti, tutto il resto, c'erano i contadini poveri che continuavano a raccogliere i frutti e a metterli nelle cassette. Ok? Quindi le monoculture hanno queste due facce. Cioè, sono molto utili perché ci portano prodotti di qualità come caffè, tabacco, eccetera, a prezzi molto, molto bassi, ma costano moltissimo alle popolazioni locali. Per questo avevo ecco qui i sei problemi con la monocultura. Ci sono, c'è più uso di materiali sintetici, più uso ovviamente di combustibili fossili perché i trattori e gli aeroplani consumano carburante. Cambia la resistenza degli organismi perché tante, tante, tante piante tutte uguali, tutte schiacciate negli stessi campi sono molto più deboli a livello di resistenza ai parassiti. c'è un degrado del soil, il soil e il suolo, ci sono meno controlli e c'è un amplissimo utilizzo dell'acqua per l'agricoltura. Ok? Poi, andiamo avanti. Quindi ragazzi, quando comprate qualcuno di questi prodotti abbiate in mente che dietro l'apparentemente, il prezzo apparentemente basso c'è in realtà uno sfruttamento dell'uomo e della terra. I grandi produttori agricoli sono specializzati in singole produzioni. Certo, i maggiori produttori agricoli del mondo sono la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, il Brasile e l'India che si dividono i primati nelle coltivazioni estensive, cioè con singole produzioni di cereali. Ad esempio, la Cina ha il premato del mondo nella produzione di riso, gli Stati Uniti per il grano, il mais e anche la soia, mi pare. Anche l'allevamento può essere di sussistenza o può essere intensivo, proprio come le coltivazioni. In che senso? Come al solito, l'esempio che vi facevo prima, il contadino in Africa che ha il suo campicello e ha il suo greggio di pecore o una mucca appartiene a questo gruppo qui, all'allevamento di sussistenza. C'è l'allevamento che serve per la sussistenza di se stessi e della propria famiglia. Invece, c'è un allevamento intensivo che è quello che c'è nei paesi occidentali dove gli animali sono chiusi in ambienti apposentamente progettati, sottoposti al controllo dei veterinari, l'attenza e servanza delle regole igieniche, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi ricordate, spero che sia così, nel documentario che avevamo visto all'inizio dell'anno c'era una scena Earth, il titolo era Earth, Terra, c'era una scena girata proprio negli allevamenti intensivi in Texas. Vi ricordate quegli enormi recinti pieni, pieni, pieni di mucche senza nemmeno un filo d'erba. Che cosa mangiavano le mucche? Mangiavano il mais che affluiva nello stabilimento attraverso i camion e i camion se ne tornavano non vuoti ma carichi di bistecche, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordatevi anche che questo tipo di allevamento è un allevamento che consuma moltissimo petrolio, produce moltissimo inquinamento e il problema del consumo di carne, dell'alto consumo di carne, è un problema grosso in occidente. Mangiamo sempre più carne ma questo non vuol dire che stiamo sempre meglio perché l'elevato consumo di carne provoca dei problemi colesterolo, l'ipertensione, vulnerabilità, certi tipi di tumore, eccetera, eccetera, eccetera. Alla Cina va anche il primato della pesca. Anche qui però, ragazzi, è una pesca intensiva. Merita una piccola parentesi. Il problema dei mari e degli oceani sul nostro pianeta. I mari e gli oceani sono attaccati innanzitutto da questo tipo di pesca intensiva in cui non c'è più la barchetta con il pescatore che getta la rete e poi porta il suo prodotto al mercato. Ma ci sono flotte di pescherecci che stanno in mare per settimane o mesi addirittura che cacciano i banchi di pesci attraverso la geolocalizzazione i satelliti, sonare, eccetera, eccetera. Li possono inseguire per migliaia di chilometri depredando le risorse marine. Al loro interno hanno anche delle catene di montaggio in cui possono pulire i pesci e surgelarli e stoccarli in modo da poi tornare in porto scaricare semplicemente i bancali di pesce surgelato sui camion frigoriferi i quali poi li distribuiscono in tutto il mondo. Eh, buona parte del pesce che noi mangiamo oggi che troviamo nei supermercati se andate a leggere l'etichetta vi consiglio di leggere sempre l'etichetta di quello che mangiate arriva dall'oceano indiano all'oceano pacifico e proprio frutto di questa caccia forse nata di queste flotte di pescherecci. Inoltre gli oceani sono attaccati anche a livello di inquinamento. Sapete che abbiamo l'effetto ser da cosa deriva? Dall'aumento della CO2 nell'aria. L'acidità nell'aria non rimane tutto nell'aria. La gran parte circa il 90% viene per fortuna nostra assorbita dagli oceani. Questo però determina una reazione chimica. L'acidità degli oceani aumenta e aumentando l'acidità quest'acqua più acida scioglie i gusci degli animali che hanno un carapace che hanno un guscio. Tra questi ci sono degli animaletti che sono alla base della catena alimentare insomma per farle breve l'acidificazione degli oceani sta distruggendo la catena alimentare presente negli oceani. tra l'altro come se non bastasse ricordatevi la solita cosa che vi dicevo sempre che oramai per ogni chilo di pesce che nuota in mare c'è circa un chilo di plastica sospeso sopra la sua testa. Ok? Questa plastica che poi ovviamente il pesce mangia e noi mangiando il pesce in una sorta di giustizia cosmica ci ritroviamo nei nostri tessuti. fate pure una pausa perché cominciamo un nuovo capitoletto l'industria nel mondo eccoci allora l'industria nel mondo capitolo 4 pagina 84 le nuove potenze industriali emergenti cominciamo a leggere e poi ne discutiamo per quanto riguarda la diffusione dell'industria oggi accanto alle aree del tradizionale sviluppo industriale cioè l'Europa occidentale l'America del nord e il Giappone dove ci sono le fabbriche si sta assistendo alla crescita dell'Asia orientale e sudorientale di alcune aree dell'America latina di Sudafrica e Australia in particolare le già citate tigri asiatiche sono ormai al pari dei paesi più sviluppati come modello come livello di produzione industriale favorita anche dal basso costo della mano d'opera quindi molte industrie oggi sono nate o si sono spostate in queste zone qui America Latina tigri asiatiche l'India la Cina e soprattutto grazie al basso costo della mano d'opera dopo ne parleremo in modo più approfondito in particolare focalizziamoci per il momento sul che cosa sono le multinazionali e sul miracolo economico di Cina in India che cosa sono le multinazionali già la parola ce lo dice sono imprese che operano su tante nazioni contemporaneamente è un po' come la Fiat che all'inizio del novecento produceva soltanto in Italia e per l'Italia e che oggi è diventata una grande multinazionale FCA che ha stabilimenti anche negli Stati Uniti in Canada ha la sede legale in Olanda ovviamente per pagare meno tasse alcune di queste hanno un fatturato cioè dei guadagni più alti di molti bilanci nazionali non mi stupirei che qualcuna come non so la British Petroleum la Exxon la Eni la Walmart la Carrefour la General Motors la Peugeot la Nestlé avessero bilanci superiori a quelli di molti stati africani quindi queste multinazionali bisogna sempre tenerne conto ragazzi sono diventati degli attori molto potenti della vita politica ed economica mondiale contano più dello Zambia dell'Ugitto o del Marocco quello che decide perché? perché muovono più soldi semplicemente per questo perché hanno dei bilanci che lo Zambia o il Marocco se li scordano andiamo a vedere in particolare la Cina anche l'India ma soprattutto la Cina la crescita più significativa di queste industrie mondiali si è verificata in India e in Cina la Cina è stato teatro di un grandioso processo di industrializzazione che l'ha portata al primo posto in molti settori produzione alluminio acciaio cotone carta eccetera 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 adesso qui vi ho messo sempre l'altra faccia della medaglia ragazzi dopo lo vedremo meglio però ricordatevi l'inquinamento globale per il 30% è causato proprio dalla non dalla Cina come la Cina è cattiva dal fatto che molti degli oggetti che noi utilizziamo tutti i giorni li facciamo produrre in Cina perché il lavoro costa meno ma ovviamente ne paghiamo anche le conseguenze CO2 riscaldamento globale adesso guarderemo un brevissimo documentario in inglese ma ai sottotitoli ve li leggo proprio sulla Cina tolgo il volume alla fine del primo millennio intorno all'anno 1000 la Cina era recentemente la più potente potenza economica mondiale aveva una popolazione di 80 milioni più di un terzo del mondo e la sua economia rappresentava il 50% del PIB mondiale ecco l'Occidente impalidiva confronto con la Cina perché in quel periodo in Occidente stava nascendo l'impero romano ok poi con le innovazioni tecnologiche e una lotta di conquista durata secoli l'Occidente si è imposto ed è diventato la prima potenza economica mondiale Europa e Stati Uniti oggi la situazione non è cambiata molto ma la Cina si sta risollevando nel 78 la Cina aveva un PIL prodotto interno all'orto di solo i 200 miliardi di dollari solo il 4% del PIB mondiale oggi è salito invece a 11.000 miliardi di dollari e rappresenta il 15% del PIB mondiale vi ricordo ragazzi che l'Italia ha un PIL di C meno di 2.000 miliardi quindi la Cina vale 7 volte tanto questo rinascimento economico negli ultimi 40 anni è largamente dovuto a una sola industria la manifattura le fabbriche gli operai abbiamo iniziato ad accettare che la Cina sia la fabbrica del mondo ma non è sempre stato così agli inizi del XX secolo i beni venivano fabbricati vicino a dove venivano consumati come vi dicevo la Fiat che faceva macchine per l'Italia poi la globalizzazione le rotte commerciali più economiche hanno cominciato a spostare la produzione in Cina ma come mai proprio in Cina come è diventato questo paese gigante industriale di oggi nel 78 il leader cinese ha fatto un po' di visite nei paesi attorno e si è accorto che il modello economico cinese non funzionava i vicini erano molto più ricchi della Cina e allora cosa ha fatto ha creato quattro zone economiche sulla costa cinese dopo le vediamo in cui poter sviluppare un'economia di tipo occidentale ecco mettiamola così ha creato delle piccole isole queste quattro zone isolate dal resto della Cina in cui non valeva più la vecchia economia comunista cinese che aveva tenuto per decenni la popolazione legata all'aratro nelle campagne a coltivare il riso ma si provava a sperimentare un'economia occidentale capitalista e quindi dà al popolo il controllo sulle fattorie privatizza le imprese e permette degli investimenti stranieri ecco qui ci sono le quattro zone economiche noi ne analizzeremo soltanto una quella più rappresentativa infatti nessuna di queste ha più successo proprio questa zona qui lo Shenzhen una provincia nel 1980 Shenzhen era un piccolo villaggio di 30.000 abitanti oggi siamo arrivati a 18 milioni 40 anni 18 milioni di abitanti in più si dice che Shenzhen sia stata la città a crescere più velocemente dell'intera storia dell'umanità questa zona è una zona economica speciale come dicevamo prima è stata scelta perché è proprio di fronte a Hong Kong la città di Shenzhen è principalmente conosciuta per due cose una è la capacità di produrre tecnologia per i consumatori telefonini radio tv eccetera l'altra è la trazione che eserce sui talenti le risorse umane specialmente nel campo di ricerca e sviluppo cioè giovani ingegneri e ricercatori che vanno a Shenzhen per trovare il lavoro e lo trovano e vengono pagati anche molto bene per le loro idee infatti Apple Samsung Microsoft Sony e Canon producono qui a Shenzhen il 90% dei prodotti elettronici mondiali sono prodotti almeno per alcune parti in questa città quindi anche il computer che noi stiamo usando i telefoni che stiamo usando per il 90% qualche pezzo l'hanno costruito a Shenzhen problema dei redditi in una fabbrica degli Stati Uniti ma anche in Europa un operaio può costare anche 10-15 dollari all'ora un lavoratore cinese a Shenzhen ci costa soltanto 3 o 4 dollari all'ora e allora capite facilmente perché molte compagnie multinazionali sono andate a produrre lì il giornalista infatti ci racconta questa storia quando è arrivato lì all'aeroporto ha prelevato più o meno 80 dollari a un bancomat l'ha utilizzato per il taxi per mangiare eccetera eccetera dopo 4 giorni non li aveva ancora spesa tutti come mai una corsa in taxi di mezz'ora costava più o meno 7 dollari un pasto completo 3 dollari e quindi i prezzi sono bassi e i salari ovviamente sono bassi eccetera eccetera questa parte la saltiamo perché è inutilmente complicata ecco si parla di questa azienda la Anker una grande azienda non l'abbiamo mai sentita lo so però è una grandissima azienda che produce ogni sorta di prodotto elettronico di consumo ma probabilmente se avete una batteria esterna o qualcosa del genere è stata fatta lì dalla Anker il vantaggio di avere un'azienda lì è che i titolari siano vicini alle loro filiali e quindi cosa succede? che tutto è più veloce quindi invece che progettare un prototipo e vederlo realizzato due settimane dopo perché se io progetto un nuovo tipo di telefono è un progetto disegnato su un foglio sulla carta poi devo darlo agli ingegneri che facciano che provino a realizzarlo a vedere se funziona cioè facciano un prototipo è un prototipo eccolo qui ci vuole del tempo se c'è invece una grande zona industriale d'altissima tecnologia come Shenzhen dove tutto è lì vicino e dove tutti sono abili a svolgere lo stesso tipo di lavoro cosa succede? un vantaggio è evidente perché a Shenzhen si passa dal progetto al prototipo in tre giorni circa non più tre settimane questa è l'immagine di un tipico mercato cinese in cui si trova di tutto e ci sono un sacco di ingegneri pronti a realizzare le loro idee in un battito di ciglia lo sviluppo avviene molto più in fretta qui rispetto agli altri paesi mondiali poi vediamo la solita catena di montaggio cinese questo non ci interessa ancora una cosa scusate non trovo mi interessava ecco molto spesso qui a Shenzhen vengono prodotti oggetti di alta tecnologia senza etichetta vengono chiamati compagnie con etichetta bianca cioè non ci mettono vedete qui gli auricolari non hanno l'etichetta poi però lo vendono alle aziende occidentali che ci mettono il loro marchio qui ci sarà scritto Sony qui ci sarà scritto Apple e lo venderanno non più a un euro ma a 30 euro ok? un po' il giochino che si fa interessava anche farvi vedere questa roba e quindi la Cina è stata protagonista di questo grande miracolo economico insieme all'India abbiamo visto che non fanno più soltanto oggetti a bassa tecnologia ma fanno oggetti anche ad altissima tecnologia però vi dicevo tutto ciò ha un rovescio della medaglia perché diamo un'occhiata ad esempio alle emissioni di CO2 guardiamo nel 1990 la Cina era qui circa 2000 cosa vuol dire qui? gt di CO2 per anno gt sono gigatonnellate miliardi di tonnellate di energia carbonica per anno qui eravamo poco sopra i due miliardi di tonnellate all'anno di energia carbonica ma man mano che sono passati gli anni siamo arrivati a oltre i 10 miliardi gli Stati Uniti hanno diminuito un po' semplicemente perché hanno smesso di consumare tantissimo carburante ne consumano solo più tanto l'Europa anche lei ha migliorato un pochino l'efficienza soprattutto delle automobili e delle dell'illuminazione che adesso sono un po' più efficienti l'India invece ha aumentato anche lei la sua produzione di energia carbonica poi ciò che salva l'India è l'alimentazione abbiamo sempre detto abbiamo un miliardo di indiani che è vegetariana e quindi qui non ci sono le loro emissioni per il consumo di carne perché non ne consumano vediamo ancora stesso dato in un grafico diverso interessava anche far vedere questo si può rappresentare lo stesso fenomeno in tanti tipi di grafico questo è un grafico della CO2 per regione per paese Cina 30% Stati Uniti 16% l'Italia è qui sopra l'1% grosso anche l'India il 7% il resto del mondo quelli che non hanno industrie praticamente il 19% qui ci sono però 3 o 4 miliardi di persone ok altro tipo di grafico l'abbiamo visto tante volte questa metacarta in cui ad area maggiore corrisponde una maggiore intensità del fenomeno qui è sempre l'inquinamento vedete la Cina com'è cicciona anche l'Italia è abbastanza cicciona l'Africa che ha pochissime industrie ha fatto una cura dimagrante bene poi ne avevo un altro di grafico ma deve essersi perso da qualche parte fenomeno interessante il fenomeno di Bollywood Hollywood lo sapete è un paesino vicino a Los Angeles che è stato è stato eletto a produzione del del cinema e della tv americana anche l'India ha una specie di Hollywood ma l'hanno chiamata Bollywood per la sua vicinanza con Bombay che in Indie si dice Bombay qui si girano dei film un po' tutti uguali sinceramente ma molto divertenti molto colorati sono tutti dei musical sono tutti quasi tutti storie d'amore di amori contrastati un po' come Romeo e Giulietta musicati con la musica tradizionale indiana e insomma sono molto carini anche se c'è da dire che visto uno visto un po' tutti questa è una mappa che ci fa vedere un po' le principali industrie nella loro distribuzione mondiale vediamo che sono concentrate qui Europa sud-est asiatico e Nord America abbiamo ampie parti del mondo senza industria di nota in molti paesi emergenti sono state spostate le industrie a bassa tecnologia ad alto inquinamento che c'erano in Europa e negli Stati Uniti alcuni tipi di produzione hanno subito l'effetto della delocalizzazione cioè molte attività produttive sono state trasferite dalle industrie occidentali nei paesi economicamente emergenti questo fenomeno è coinvolto in particolare settori a basse tecnologie e più alto numero di addetti come il tessile metallurgico siderurgico molti nostri parenti o conoscenti che lavoravano nell'industria tessile se ne sono accorti molto bene in che senso nel senso che molte industrie tessili in Valsesia e anche in Valsessera dopo la crisi del 2008 hanno chiuso per riaprire ad esempio per le tintorie hanno riaperto in Nord Africa in Marocco e in Tunisia per i filati in India quindi la filatura di Borgossese ad esempio che era la più grande filatura d'Europa si è vista a fare una concorrenza spietata dalle industrie indiane ok stessa cosa l'industria metallurgica e siderurgica grandi acciaierie industrie molto inquinanti sono state quasi tutte spostate in Cina fondamentalmente poi tanto sappiamo i trasporti via nave costano poco e quindi non c'è problema l'Occidente invece si è tenuto tutte le industrie ad alta tecnologia industria metallmeccanica quella chimica da cui dipendono più strettamente l'innovazione tecnologica la progettazione la ricerca scientifica le industrie ad alta tecnologia sono rimaste in Europa e negli Stati Uniti mi viene in mente ad esempio che ne so un'industria automobilistica come la Ferrari o la McLaren eh prendiamo la McLaren la McLaren produce automobili da Formula 1 e anche supercar dal costi esagerati oltre il milione di dollari o di euro la McLaren ha il suo stabilimento la sua progettazione la realizzazione in Inghilterra tra l'altro in un distretto che è pieno di altre industrie molto simili ad altissima tecnologia eh altre industrie che di Formula 1 come la Williams come altre e proprio aver mantenuto in Occidente queste produzioni ad altissima tecnologia concentrandoli in alcuni distretti fa sì che l'Occidente sia ancora mh abbia ancora un ruolo predominante eh in questo settore economico nel settore cioè dove si fanno più soldi ma pensate anche semplicemente la Apple dov'è che si sviluppa e si progetta la Apple eh nella Silicon Valley in California poi la fabbrica l'hanno messa in Cina dalla Cina partono i camion scusate le navi cariche di iPhone che vengono distribuiti eh in Europa negli Stati Uniti e i soldi a chi vanno tornano alla Silicon Valley ok un po' il giochino è quello lì sia per i telefoni che per moltissime altre produzioni ehm ad esempio infatti si parla di industria automobilistica eccetera eccetera qui abbiamo una catena di montaggio di un'automobile ma pensate soltanto alla Fiat che è andata a produrre le proprie automobili in Serbia o in Polonia ok eh vediamo scusate non ricordo se no 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 non abbiamo nessun grafico possiamo andare avanti qui vi leggete questa cosa sulla delocalizzazione né più né meno quella che vi ho detto io eh soltanto una una precisazione cosa vuol dire produzione ad alta intensità di mano d'opera e a bassa tecnologia vuol dire facciamo l'esempio un esempio concreto io ho una fabbrica di scarpe e ogni scarpa mi costa dieci euro produrla ok la pelle e la gomma e la colla non costano molto diciamo che sul paio di scarpe finito mi costano tre euro da dove arrivano gli altri sette euro del mio costo derivano dal dello stipendio che ho pagato agli operai perché la scarpa è tipicamente una produzione ad alta intensità di mano d'opera ci vogliono molte ore di lavoro manuale per produrre un paio invece prendiamo un'azienda che produce che ne so io rubinetti oppure meglio ancora un'azienda che produce carta ecco abbiamo un bel esempio di cartificio vicino a noi è romagnano vicino all'ingresso del casello di romagnano dell'autostrada c'è la scott quella che fa la scottex il rotolone assorbente fa la carta igienica e tante altre produzioni quello tipicamente è un lavoro a bassa intensità di mano d'opera perché la cartiera costa moltissimo realizzarla i macchinari costano tantissimo e questi macchinari sono quasi completamente automatici tu una volta che hai costruito il tuo macchinario che produce la carta poi bastano poche decine di operai per farlo funzionare quindi su un chilo di carta che costa 10 euro 9 euro saranno di costo della carta proprio della macchina che l'ha prodotta della cellulosa che la compone e soltanto un euro invece il salario degli operai quindi ad esempio nella cartiera di Romaiano spesso si lavora per 360 giorni all'anno non ci sono le ferie si preferisce pagare più operai perché appunto il costo della macchina è stato così gigantesco che conviene farla produrre giorno e notte anche il giorno di Natale piuttosto paghi dai 200 euro in più all'operaio che sta lì a farla funzionare ma ti conviene che produca anche il giorno di Natale anche la notte di Capodanno si ferma soltanto per la manutenzione questi lavori ad alta intensità di mano d'opera le scarpe sono stati o il tessile sono stati inviati nei paesi dove ovviamente la mano d'opera costa meno e quindi aumentando quello che Marx chiamerebbe il saggio di profitto delle imprese vi leggete questa cosa sulle imprese trasnazionali non è che cambi molto la situazione qui un bel grafico appunto sul costo del lavoro salario medio degli operai se un operaio in un giorno di operaio mi costa 100 dollari negli Stati Uniti mi costa 120 in Europa mi costa più o meno 100 in Giappone in Thailandia mi costa 40 o in Corea meglio mi costa 40 in Brasile mi costa 18 in Messico 15 in Cina 3 capite perché bisogna fare le scarpe in Cina ok ragazzi termino qui la lezione così riesco a spezzettarla un po' meglio c'è ovviamente la fase 2 a tra poco